Allora, Barcellona-Levante partita di ritorno di Coppa del Re, all'andata ha vinto il Levante anche abbastanza clamorosamente per 2-1, al ritorno, a momenti ne stavano per fare un altro, sta vincendo il Barcellona 3-0. Allora, praticamente, guardando l'andata e guardando il ritorno, l'aggregate, cioè il complesso, il totale, favorirebbe il Barcellona, e fin qui, e fin qui, scusate, non ce piove. Ciao, vi saluto subito, bella a tutti da me, siamo tornati con questo nuovo video, ma ragazzi, è uscita fuori questa notizia che potrebbe essere abbastanza clamorosa, perché, nonostante la vittoria sul campo del Barcellona, il Barcellona stesso rischierebbe di essere squalificato e eliminato dalla Coppa del Re. Ma andiamo per gradi, cercherò di essere rapidissimo. All'andata, nella partita persa contro il Levante per 2-1, il Barcellona ha schierato il classe 99, Ciumi, non so se si legge Ciumi, Ciumi, non so come cazzo si legge, comunque un giocatore giovane che gioca nel Barcellona B, ma che era squalificato e che quindi non avrebbe potuto giocare. Il regolamento dice che il giocatore avrebbe potuto giocare, però prima avrebbe dovuto scontare la squalifica con la sua squadra di appartenenza, che è il Barcellona B. Cosa che non è avvenuta, di conseguenza il presidente del Levante lo ha già dichiarato, a prescindere da come sarebbe finita stasera la partita, domani faranno ricorso. Faranno ricorso e molto probabilmente, visto che c'è già un precedente, il Barcellona potrebbe essere squalificato proprio dalla Coppa del Re. Infatti, tre anni fa, se non ricordo male, me lo ha ricordato Fabio, ragazzi miei, Cerishev, giocatore del Real Madrid all'epoca, che cosa ha fatto? È stato schierato con lo stesso identico modus operandi, cioè praticamente era stato squalificato, non avrebbe potuto giocare, invece il Real Madrid erroneamente ovviamente lo ha schierato e quindi Real che è stato squalificato. Ecco, anche in questo caso potrebbe succedere la stessa identica cosa, quindi io vi ho avvisati, ma voglio dire qualcosina sulla partita. Dembélé fa una doppietta e non solo, perché lì ho messo i ragazzuoli miei, ho preso questa statistica direttamente da Dazon mentre la dicevano, ha segnato 576 gol in 660 partite col Barcellona, mannaggia, veramente una cosa di quelle esagerate. Traversa adesso in questo momento da parte del Levante, ma ne dovrebbe fare due il Levante, perché col 3 a 1 passerebbe comunque il Barcellona, perché il totale adesso è di 4 a 2. La partita, lo ripeto, è stata a senso unico perché praticamente il Barcellona ha fatto un assedio. Ogni tanto il Levante si affacciava dalle parti della porta del Barcellona, però insomma, Barcellona che ha creato veramente l'impossibile e sinceramente ha anche concretizzato abbastanza poco per tutte le occasioni che ha creato. Comunque ecco là, ragazzi miei, un palaccio da parte del Levante, qualche occasione, ripeto, se l'è ritagliata, ma alla fine sul campo, così come siamo messi, appunto meriterebbe di passare il Barcellona al turno successivo. Vi terrò aggiornati qualora il Barcellona poi verrà squalificato e quindi verrà eliminato in automatico, perché in questo caso quando succedono queste cose non contano andata all'idopia e buttano fuori la squadra. Secondo me potrebbe assolutamente succedere. Comunque vi terrò aggiornati, lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio. commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non lo resta ancora fatto e ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti. Buona serata!